Musica Attenzione A uno, a due, a tre, a due, a tre di qua, a uno da questa parte Vai Gennaro Un drappello di pochi a uno Musier, Musier, Musier Stefano ragazzi vai andate vai Trappello ridotto, attenzione agli incroci e al traffico Io sto partendo in ritardo Vai Claudio Ma lo so che è il primo ettilineo col vento a favore Vai Paolo Per fare ripresa mentre porto la macchina Con il cambio drammatico si può Vediamo gli stili qua Ottimo stile Cesaretti Come il presidente insegna Tutti stretti sulla destra o quasi Il sole si affaccia e quindi sarà una bella giornata Si sale bene oggi? Già le risposte mancano Bombole di ossigeno Forza ragazzi Pellegrini fa finta di soffrire ma lo sappiamo che poi partirà Con la BMW Dai Gianluca Per lo scatto finale Calma c'è te Tappa lunga dura dall'inizio Amerigo che oltre a pedalare parla come al solito Non si sa se sono più le pedalate o più le parole ma va benissimo così Forza ragazzi Ciao ciao Non è l'arrivo eh Grazie per il terzo posto Vai 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 Aspettiamo o non aspettiamo E quindi se ne vanno Tranquilli punto intermedio è dopo Manziana Vai vai Emilio Cos'è questa maglia bianconera anziché gialla? Che succede? Il poeta in testa Vai 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 Lideranno sulle prime rampe Per salire verso l'Otolfa al Lumiere Ovviamente occupiamo tutta la carreggiata Vabbè oggi forse quasi si può fare Ecco vediamo qualcuno che comincia a scattare Comunque siamo sui 40 orari eh Ma sono un po' allargato 35 però Bella velocità Ecco il sole che fa il capolino Quindi la giornata volge al meglio Salita è sole, verde Turbike, Pino, Ridolfi e Orlando Bravi Pino, Ridolfi e Orlando Ciao Ciao Ecco un arrivo Piano, piano, piano Chi siete? Di Pofi e Giorgi Concludono vittoriosi la tappa Alle loro spalle il grande Maurizio Pellegrini Vai Maurizio Ecco vediamo un arrivo Dovrebbe essere Gianluca Pavani Che sfreccia Vai E questo arrivo in discesa facilita gli sprint Vai 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 Cognome Barilari Eugeri 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 Ma sì è lui Eccolo è lui E' lui E' lui E' Rangeli E' Roberto Pietrangeli Conosco è Paolo Benzi E' Paolo Benzi Paolo prego intervista alla stampa Vai 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 Ed ecco l'arrivo di Cosè Cosè De Prada De Prada Ed ecco Il tedesco del gruppo Sascha Non il mezzo Sono seguito dall'autobus Arriva L'altra volta Ci sei messo Prato Ma si è finito Chi è tizettare Ah Prato Mascia Tizettare un po' l'auro per Gianluca Vai 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 Cognome Aderito 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 Eccolo Aderito Cognome Brandi Castagna Ecco Paolo Cucco Paolo Cucco Vai Paolo Cucco Non poeta Bene bene Grazie a tutti!